del Gado resta a terra dolorante pacella mentre del Gado entra in attaccato da Castro regolare il recupero di palla Castro anchierà sì Castro in il successo dovrebbe essere portato a casa Tattarina attaccato alle spalle da Castro tutto regolare per questo calcio di punizione Gagliè lascia Castro parte Castro la conclusione rete il pareggio dei nero stellati che arriva al quarto minuto e mezzo del secondo tempo l'argentino Castro gonfia la rete ancora di destro il lancio lungo ad opera di falso salta bene Castro ripatto in farindolini vediamo farindolini innesca amici che chiuso in calcio d'angolo da Castro pratica il pallone poi il lancio di Castro per Ndiaye mantiene il pallone in campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.